Mi chiamo Luigi, sono residente a Opera, è stato un po' come rispolverare una macchina vecchissima, ferma da anni, proprio perché studio musica da quando ho 5 anni, ho fatto conservatorio per altri 5 anni a Milano, tra l'altro ho ritrovato dei maestri che vengono da questo conservatorio e per me è stato proprio, mi è riaccesa tutta una serie di emozioni, ricordi, sono stato fermo più di 20 anni perché la vita ci ha portato su altre strade e adesso per me è stata proprio un'emozione grandiosa poter fare una cosa del genere, soprattutto in un carcere. Quando facevo un conservatorio suonavo pianoforte, strumenti affiato come la tromba, la fisarmonica è stato uno strumento che mi ha insegnato mio zio da bambino perché avevano un gruppo folkloristico con mio padre, essendo di origini pugliesi e da lì ho iniziato a suonarla, nelle feste, in famiglia e adesso dopo tutti questi anni di poterla prendere ancora in mano per fare determinate cose è importantissimo. Era già un sogno che avevo nel cassetto, quello di dover fare il musicista, poi ripeto, le strade hanno preso altre vie, però spero che quando riesco di ricontinuare, riuscire proprio a ricoltivare questa passione e magari arrivare anche a riuscire a prendere anche un diploma, visto che ho buttato via tanti anni, più di cinque anni di conservatorio, magari posso ricominciare a riprendere, almeno a livello personale, come soddisfazione personale.